buongiorno oggi niente scenario bucolico per una questione di tempi contingenti eccetera 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 però siamo sempre qua naturalmente a parlare sì anche di del piero è sia chiaro ma oggi non è proprio la giornata di una di un come dire di un episodio particolare quelli me li tengo più avanti posto che non posso ricordarmi tutti i 19 anni di alessandro del piero però per darvi un'idea del rapporto che c'era anche personalmente con lui finisce quell'era o quella parentesi temporale in cui veniva a farsi intervistare da me fuori dal comunale o meglio da un'altra uscita all'uscita secondaria del comunale l'abitudine dopo un po di calma perché doveva far calmare le acque eccetera è ripresa in maniera molto più efficace perché riguardava il post partita questo succedeva al vecchio delle alpi nei primi anni della sua carriera juventina quando già comunque aveva preso il posto di baggio perché lui non ha sofferto il dualismo con baggio assolutamente e loro erano molto molto legati molto amici stessa regione parlavano in dialetto veneto tra di loro eccetera quindi non c'è stata rivalità anche perché poi baggio nel 95 lascia la juventus va a costo zero al milan e del piero esce da questa sorta di guscio definitivamente perché comunque l'alternanza con baggio c'era ed erano abbastanza incompatibili per giocare assieme ripeto ma non c'è mai stata rivalità tra loro due bene del piero cosa faceva finite le partite finite le interviste di rito diciamo così allenatori giocatori vi portavano lì io aspettavo ancora un po che se ne andassero via tutti lì nella sala stampa la mix zone diciamo così del delle alpi del vecchio delle alpi e dopo un po lui sbucava e io gli facevo una sorta di esclusiva che andava in onda a pressing mi ricordo magari qualcuno di voi si ricorderà di questo anche lì solo con me solo con me andava non tutti i post partita ma ho avuto la soddisfazione di poter dire che anche dopo le partite parlava solo con me qui perché non si era ancora entrati nel regime per il quale tutti devono avere le stesse interviste gli stessi giocatori ora non sarebbe più possibile o meglio mi scusiva la paghi e ce l'hai allora invece era fatta proprio in amicizia in rispetto allora io approfondivo certe tematiche della partita che magari non avevo fatto con altri certe tematiche sue personali che ovviamente non potevo affrontare con altri e lui mi rispondeva mi dava sempre grandi soddisfazioni quali soddisfazioni avrà la juve dal mercato beh mi sembra che l'intervista pubblicata oggi da dal mio amico e direttore guido vaciago effettuata tra l'altro da lui guido vaciago di tutto sport sia molto 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 eloquente ci sono dei passi che mi hanno particolarmente colpito uno su tutti fosse passato in secondo piano douglas costa pesa ancora sul bilancio della juventus credo che sia l'ultimo anno voi vi rendete conto e anch'io me ne devo rendere conto a volte noi facciamo tanti discorsi senza tener conto di tante variabili di tante situazioni che noi diamo per scontate che in realtà sono ancora lì presenti douglas costa con il contratto che aveva cinque anni è ancora una voce in bilancio ovviamente passiva ancora per quest'anno ma peserà su un bilancio che andrà a chiudersi ancora negativamente la missione del fatto che su ronaldo ha influito poi il covid perché altrimenti i conti sarebbero stati diversi la missione sul fatto che su di bala ha cambiato idea la juventus lo dice c'era un accordo viene prima però di tutto la juve a meno che uno non abbia un valore tecnico pazzesco ed ecco il riferimento di bala non era reputato avere un valore tecnico pazzesco e allora bisogna rivedere tutto ma è la juve che cambia idea non è di bala che cambia idea e questa è un'implicita è un'esplicita ammissione da parte di riva bene andatevi a leggere il punto così come nasce improvvisamente la trattativa per Pogba quindi tante chiacchiere prima ma ufficialmente nasce in un pomeriggio qualsiasi perché non riprendiamo a volte il mercato nasce così ma veramente ragazzi nasce così uno pensa che ci sia lì magari a volte o sempre no la programmazione le riunioni le cose sì ci sono le riunioni ma poi tuc ma riprendiamolo magari dopo tanti anni che se ne parla adesso facciamolo veramente e lo vanno a prendere e lo vanno a prendere e poi c'è il discorso dell'ICT anche qua la conferma la conferma che dell'ICT è sul mercato come vi dicevo da tempo la conferma ed è la conferma del fatto che è dell'ICT stesso che vuole lasciare la juventus nel momento in cui dice non si può trattenere chi vuole andare via è il discorso che facevo ieri senza aver visto poi ovviamente l'intervista di arriva bene ma è il discorso che fanno tutte ormai le società non si può trattenere contro voglia un giocatore che vuole andare via perché ma perché è ovvio che non dico che ti gioca contro ma non ha più quello spirito non ha più quella voglia non ha più quella determinazione volete sapere qual è la cartina di dono sole qual è l'errore che è stato fatto no me l'ho già parlato recentemente qual è il l'altro lato della medaglia alexandro voleva andar via non è andato via non è stato mandato non è stato fatto andar via ve l'ho già detto ha preteso gli stessi soldi che gli avrebbe dato il celsico allora la juve avesse accettato marotta a suo tempo avesse accettato i 60 milioni e non è più stato comunque alexandro dei primi due anni questi sono i rischi poi fai i contratti lunghi fai fatica a rivenderli questi sono i rischi e credo che la juve abbia imparato da quella situazione di alexandro a capire che chi vuole andare è giusto che vada certo non bisogna farsi prendere per i fondelli nel senso giustamente arriva bene dice bisogna essere soddisfatti in tre in primis la squadra che riceve i soldi la squadra che gli sborsa ritenendo adeguato il valore e ovviamente potendo ottenere le prestazioni del calciatore e il calciatore calciatore stesso che vuole ambire a qualcosa di importante evidentemente delic nelle sue valutazioni ha pensato che la juve non gli potesse garantire un determinato tipo di futuro ma quando è arrivato noi ce lo dicevamo questo non sta tanto con minoraio la non stai tanto in una società tre barra quattro anni l'ho sempre detto fin dalla prima volta fin dal primo giorno stai tre barra quattro anni se fai parte della scuderia di minoraio perché così perché è naturale guarda caso tre anni e se ne va se ne andrà perché io credo che alla fine si troverà l'accordo adesso si parla di Kimpembe dal Paris Saint Germain sarebbe una buona idea è un'idea o meglio è un'indiscrezione lanciata dalla Francia in questo momento non possiamo avere né conferme né smentite da parte della Juventus certamente non credo che la Juventus quando andrà via De Ligt farà con Gatti e Rugani e Bonucci quindi chiaramente un altro centrale ci sarà vedremo se sarà Kimpembe se sarà Bremer se sarà perché Bremer mi dicono oggi è rientrato a Torino quindi evidentemente c'è qualche trattativa in corso ma potrebbe riguardare anche l'Inter attenzione potrebbe riguardare anche l'Inter anzi in questo momento forse riguarda più l'Inter che la Juventus però vediamo un po' vediamo un po' i movimenti ci sono quello che voglio farvi capire io è che il mercato a volte sfugge a certe logiche non ti fa pensare a certi rigagnoli vedassi per esempio il caso di Douglas Costa e che bisogna lasciare operare una società dopodiché si tireranno le conclusioni e le conclusioni arriveranno molto più avanti di quando non siamo adesso iscrivetevi al canale seguitemi sull'applicazione numero 10 e ci vediamo questa sera con il secondo video giornata ciao a tutti